La magia che dà l'undicesima edizione della Gran Fondo, l'edita Pugisca Inter! All is by the Pistola! Ehi, abbiamo scritto l'undicesima edizione, hai messo la firma sul gattivo più alto, un anno sarà tranquillo! Il 2022 sarà tutto da vedere, la spilla che continua nel nome di Pugisca Inter! All is by the Pugisca Inter!